Monsignor Moretti, Salerno si prepara al giorno, al suo giorno, al 21 settembre, si prepara tutta la comunità, verrà tanta gente, insomma, e lei quest'anno sarà al seguito della processione? Beh, quello me lo auguro, perché la salute è un po' sempre ballerina, però insomma, vediamo. Ma certamente è un appuntamento importante e la cosa che a me piace di più è che non è solo un evento. Questo sta diventando questo mese un'occasione veramente sia di conoscenza, ma sia anche, direi, di disponibilità all'accoglienza di quello che è il grande dono che San Matteo ci può fare, che è il Vangelo. Il fatto è che nelle comunità la presenza di questo peregrinazio che sta avvenendo è uno dei segni, credo, più belli. appunto nella zona orientale della città, tanta gente. Lei comincia a sentirsi ormai un po' salernitano? Beh, ormai credo di sì, nel senso che sono nove anni che vivo e condivido la vita che non è solo della città, ma è di tutta la diocesi. E proprio questo fatto della peregrinazio credo che sia un segno bello, perché i primi tempi che ero qui, spesso mi veniva ripetuto che San Matteo era un fatto legato molto al centro storico. Invece questa è la dimostrazione che è legata a tutta la città. E credo che sia un cammino bello, sia in queste occasioni dove le comunità, e sia quella presenza in luoghi specifici dove spesso c'è la sofferenza, la solitudine, come può essere l'ospedale, come può essere la casa per anziani, come può essere il carcere, così. E anche la cosa bella, credo, che probabilmente è il segno del superamento di tante situazioni pregresse, è che ci sono anche momenti propri della città. Cioè San Matteo non è solo padrono della diocesi, quindi della Chiesa, ma anche della città. Vedo per esempio questi segni, l'omaggio floreale, il soggetto è la città, con le sue istituzioni, le sue esperienze rappresentative, più che la Chiesa. La stessa visita proprio specifica nel Palazzo del Comune, dove si è superato tutto, forse equivoci proprio per la natura delle cose che si vivono. È un altro segno importante, come anche quello tradizionale per la finanza, così ecco. Credo che siano tutti segni che ci fanno capire come l'approccio a San Matteo non è semplicemente un approccio da tifo, ma è un approccio di maturazione della fede, ma anche di quella che è la rigatuta nel far crescere una comunità. E che cosa le piace di più di questa comunità? Ormai la conosce, sono nove anni, insomma, lei ha anche poi fissato delle regole, accennava, insomma, gli equivoci iniziali, poi, insomma, tutte queste cose sono state un po' metabolizzate, almeno la gran parte. Che cosa le piace di più? Ma è proprio, direi, l'entusiasmo che emerge sempre. Che, come dicevo, non è semplicemente una specie di forma di tifo, no? Ma è una conoscenza sempre più approfondita, sia di San Matteo, apostolo, martire, evangelista, e sia di quella che è una ricchezza che può essere per una comunità, sia di credenti, ma anche una comunità di persone che nel Vangelo trovano quello che è il fondamento del buon vivere insieme. Senta, l'ultima cosa. Tutti aspettano Papa Francesco. Io non posso che chiederlo a lei. A questo non lo so. Io so solo una cosa, che lui ha un legame forte con l'esperienza di Salerno, sia perché la sua vocazione è legata alla figura di San Matteo, ma anche perché il suo predecessore a Buenos Aires era Cardinale Guarracino, che è di Agropoli. E tutte quelle volte che io ho avuto modo di incontrarlo, di salutarlo, non fa altro che richiamare queste situazioni. C'è la possibilità che possa venire Papa Francesco? In questo, sai, il Papa è molto imprevedibile. Quindi, normalmente, più che essere invitato, è lui che sceglie e definisce le sue visite. Quindi, se venisse, saremmo tutti certamente contenti. Nello stesso tempo, mi sento di dire, anche in questa occasione, che la presenza di questo Papa, una presenza veramente profetica, merita tutta la nostra attenzione, la nostra, direi, passione, la nostra solidarietà. Noi abbiamo scelto, sin dall'inizio, di far nostro il suo messaggio, il cammino che come Chiesa stiamo facendo, non è altro che cercare di vivere questa conversione pastorale che lui ci chiede nel suo documento programmatico, l'Evangelio Gaudio. Quindi, Marcello Veneziani dice che ha spaccato in due la Chiesa, lei? Ma, io credo che, proprio perché ha una visione profetica, ci chiede di rimetterci in discussione, ci chiede di doverci ridefinire. E lui non ci chiede di inseguire una moda, ci chiede di seguire il Vangelo, che fa bene a tutti, dal Papa in giù, al Vescovo, e forse anche a Veneziani, non lo so, ecco. ...di inizio, ...di la cassa in dalle.